Sua Maestà la regina annuncia con profondo rammarico la morte del suo amato marito, sua altezza reale, il principe Filippo, duca di Edimburgo, così Buckingham Palace. Si precisa che il principe è morto giovedì mattina, 9 aprile, al castello di Windsor. Filippo avrebbe compiuto 100 anni il 10 giugno. Il 16 febbrario il marito della regina Elisabetta II era stato ricoverato. Un mese dopo aveva lasciato l'ospedale Edward VII dopo un intervento chirurgico al cuore, che era stato definito successo. Una fonte dell'entourage reale aveva riferito che non era stato il coronavirus a causare il ricovero. Filippo ed Elisabetta sono stati tra i primi nel Regno Unito a ricevere vaccinazioni contro il coronavirus. Recentemente, a partire dal 2017, il duca di Edimburgo si era recato più volte in ospedale a causa di problemi cardiaci.